Con te... Torno subito, eh? Scusate Cosa? Però c'è Armando che sta facendo un duo, quindi in realtà potresti andare da lui Con te partirò Che armi sta dotando? Io voglio livellare la nuova mitaglietta, però non ci vuole andare su Cold War, non c'ho voglia, raga Fare car Prima... Prima... Che era vacca? Vero che stavamo giovando insieme Matt? Matt Mi chiami ha insultato pesante perché stavo usando l'Aug senza silenziatore Oddio, senza silenziatore è un po' una gacciara Eh, ha allevato la portata del silenziatore, ha allevato Eh, ma mo' la rimettono tanto, eh? Eh, beh, quando lo rimettono lo rimetteremo Comunque l'Aug l'ho provato oggi di un paio di... Eh, orco due Cadu? Mi moro Guarda che io ho mutato una persona che non dovevo mutare Eh sì Due scariche, due scariche per terra, due scariche Sono pomitevole con l'AX comunque Eh, con l'AX non fa danno Ma io l'ho anche, lo fa un più fondamento, proprio non so come ho fatto a farlo oro Ciao, non lo so Guarda, io cecchini e tattici sono state le cose più veloci che si riescono a fare con le mie mediche Non so come mai Ma io la sigana ce l'ho sull'M4, l'MP7, l'MP5, il carro Bella madonna Eh, l'M13 Oh no Volete andare? Raga, tu è carino, ti giuro che qua c'è roba Perché ti sai, ieri l'insultavi al tuo amico, ieri l'insultavi al tuo amico Sì, ma perché te devi capire che quando Corrado mi propone qualcosa io ho diffidenza a scendere No, Vale, stasera ti prego facciamo il nostro team Ma a me va bene, insomma, ma è tanto che non si fa Ma Corrado, questi giorni, mi ha regalato delle emozioni assurde Madonna, ma ho visto quella partita che ha pubblicato, dia vaffanze Boh, io ho proprio sto lato, io credo che vado a fare un certo passo C'è, un titolo La bomba atomica c'è Sì, sì Infatti da... Prima era chiuso e adesso è aperto Bravo Esatto, esattamente C'era ieri, da caperlo Sì, ma te devi aprire ieri, io Corrado l'avrei ammazzato Poi sono contento perché si è fatto delle soddisfazioni, ha fatto una bella win in coppia Ma un faceva altro, pusciò la gente da solo e morì male Carino che è Beh, vuoi fatti, corre, ma perché vai da solo fa? Beh, ma avevo silenzio di tomba Di tomba Sì, sì, sì Ma ti scopavo lo stesso a te Quanto adoro, madonna Ma poi quando dà quelle risposte sul gruppo di Facebook da avvocato, io voglio Cioè, ti giuro Lui comunque ti giuro che è un luato del suo carattere Che veramente, cioè Per me è sempre stato un problema Cioè, dopo un po' diventa veramente pesante Io ti giuro che lui è la persona più pessimista dell'universo Uno più pessimista Eh, ha capito? C'è un bel po' di roba, poi non ci va un cazzo di nessuno Ha fatto un cazzo che io non l'ho trovato Guarda, io comunque io mi voglio fare un loadout col gallo Perché secondo me quel pompa... Ah, cacca plate, tiro Ma guarda che se trovi quello brutto a terra è devastante, eh? Sì, l'ho trovato Ma proprio a ripetizione di una partiveria incredibile Senza mirare, bom 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 Ok, però onestamente speravo ci trovasse più roba Per muo per trovare sta cassa, dove vanno? Eh... Ah, qua 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 Putallo, ma giganterri in questo posto Capito Sì, ma guarda dove siamo usciti No, ieri però c'era di più Non c'era proprio zero Non c'era proprio zero Ma senti la cosa più fond... Madonna, avevo forse un nemico In quartetti E' veramente... sarebbe fondamentale Che uno va al giro con massima alerta Lo vedo È il numero uno Quel quasi sta avendo da voi In culo all'elicottero, vada va all'elicottero Vada all'elicottero, fermate Faglielo prendere, faglielo prendere Perché vai? Non l'ha truccato, non l'ha truccato L'ho truccato io Bravo Che ditte, guarda Questa è la tua influenza Valerio, lo sai vero? Ma non lo sta prendendo Andiamo a spurgarlo Il gas è in valut Prima c'è anche un colpo veramente per voi C'hanno... Giuliani ne ho fatta una Ha fatto una tripla così No, però ieri è stata più sofisticata Perché... Ci aveva pushato male un team di gente forte Ma erano poi Io sono andati a guardare C'erano tutti su rato 2 E io alla fine Me l'ero truccata Come si dice Se non me l'ero truccata No, no, non è che me l'ero truccata Aspetta Io c'avevo ghost E così se non si aspettava Uno l'avevo preso male Ma poi... C'era Vaccaro E conto che erano morti male Ho preso il cazzo grosso io in quella situazione E a quel punto ho detto Lui è volo ma qua sotto c'è una festa Uno qua dentro? Uno qua in un primo L'avevo visto così alla te La, 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 la Gittetera Siamo da qui E' sceso giù giù, e' sceso giù Vi prima davanti a te Se lancia, se lancia, se lancia non ho fatto i due non pinga nessuno non mi pinga c'è uno da me facciamo uno up raga ah ma erano tutti costati non era uno prenditi i soldi ce l'ho sotto da me non mi stanno vedendo non capisco cosa stanno facendo no questo è ritardato anche perché è un team sono costati tutti c4 ma sarà uno sarà un altro con la mina occhio ah capace questa sera ho capace mi ripara un sniper ma preso la mina no i pugni no mi sembra ieri che ce li hai costi i pugni no ma i pugni fanno veramente vomitare cosa c'è come ho fatto posso tornare a voi a voi posso tornare a prendermi la roba raga che salutavale sto usando la rana perché non è stato la velocità per essere il discorso quanti vado a fare uno raga mi lascio i soldi avvizzami avvizzami tutto c'è una lentina oh c'è uno che sta andando a drop giulì vi lancio si o no no aspetta forse tanti che stanno andando a drop no non è solo uno ragazzo avevo tutto solo uno c'è una terra davanti a te giulia ah c'era restato ci vale scusa l'ultimo numero basso sta telando guarda come c'è la tela ciao ragazzi bello non ho preso il lancio ancora vi asci i soldi qua lo shop vi asci i soldi raga vai compro un altro guavo compro soldi allo shop no fare quella lentina va te settimana si va alle 3 lavorare paroloni paroloni lavorare a letto bene guardare con una certa continuità uno schermo lcd no non è vero tiriamo un uomo delle ottero vai 3 2 1 wait wait facciamo girare facciamo girare facciamo girare oh uno che sta appena troppato la raga oh cazzo ho sbagliato ho sbagliato non volevo per pingare l'ho vuoto lo avvo buttato e basta postemine che falle avete rotto il cazzo ma lei è tipo c'è una cucaraccia hanno hanno chiamato qualcosa l'ha slidata vacca tu con chi sei con matteo c'è un posto buttiamo uno alba a sto punto raga che abbiamo fa vabbè che 17.000 tira un triple pure no eh dai faccio il triplo faccio il triplo dai lascia me 4.000 no anzi 2.000 così mi vengono ad adesso c'è un cazzo nessuno qua era una battuta era una battuta il vestito preferito di batman c'è un team di gioco qua sopra qui andiamo a fare loro io non ce l'ho la stricca eh ho comprato la raga no non li voglio un dici capo così tanti non so tornare indietro raga vengo con voi avanti vengo io faccio un planchettino tattico a me ti butta giovane mamma mia guapa non ce l'abbiamo raga ma che cazzo di manovra ha fatto oh cariatemi per favore oh cazzo di manovra oh cazzo di manovra bandierina andiamo a vado allo shop raga chris tieniti tu un po' di soldi tieniti un po' di soldina anche tu qua sbagliato oh drop da qualche parte drop là chi non ha preso il drop raga io lascio da me io direi di far prima sti due scemi questi stanno tornando doppio doppio ah si sembrava un doppio resa mi sembrava un po' di detto no non ce l'ho uno mi ha sparato stunno troppo vediamo se c'è la front oh questo è l'altro è flyer l'altro è flyer l'altro eh mi è sceso più giù faccia la pagliara nooo ho preso un radarino per sbaglio alla geek raga c'è una b qua ma porco addio no ho preso un radarino per sbaglio quando ce la fai a prenderlo tu non lo voli là eh no perchè c'è un precision oh ah vaffanculo mica sono no ma non c'è freddo aver fatto la bandiera aspetterai un attimo andrei a far prima questo però manca un minuto e 40 manca raga si sono qui c'è un team qui c'è la sgraccia raga 39 metri avanti a me oh no no io non ce l'ho mi cazzo mi cazzo bravo bravo a destra qua a destra stai entrando da voi mi sono stuonato da solo mi sono stuonato arrivo patto 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 precision confirming hostile confirming hostile confirming hostile tracking enemy rado con silenzio un ottimo sopra non c'è sopra non c'è eh davanti 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 primo piano primo piano giuri lo fai lo fai qui ok che cazzo è andato ha scappato per i toti metri di fa sta nel sopra tetto nooo eh potere d'arresto potere d'arresto ragazzo si è buttato si è buttato eh infatti l'avete fatto ragazzo no cosa è andato si è buttato ah lo vedo lo vedo lo vedo è davanti a me mi devo costruire ha messo a terra con te one shot posso andare a prendermi la mia roba a questo prendiamo un 2 è sotto di noi giuli 16 metri ah l'ho visto dov'è qua 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 vado aveva rotto coglioni eh però ma non c'è nessuno che c'ha oh netmash l'ho trovato si ora possiamo fare la banderina ah ma è scaduta l'avete preso voi il bomb è vero? io c'ho questa munizione se l'ho preso io un bomb mi hai rifatti il lato rest cont truave viene rifatti il lato rest però devi essere veloce ma dai ma porco puttano i need recon on my position this is falcon 3 0 ti ho lasciato 10.000 eh io c'ho quella di muni sto lasciato 10.000 allo shot ah sto andando sto andando io io ce l'ho io ce l'ho io ma prendila comunque io ce l'ho di muni serve un più test eh muni eeeeh shop allo shop gente ho uno in volo ho ah mi è caduto il bomb l'hai ripreso l'ho fatto io l'ho fatto io l'ho fatto io l'ho fatto io l'ho bobo c'è l'ho shop Giulio non andarlo ti spingi da perché c'è diversi team che vanno come salmone eh ok ruotiamo da sinistro Facciamo anche un certino a questo shop, così riprendiamo qualche altro bombe per l'endgame Eh ma il grappolo è troppo forte in endgame Troppo meglio il grappolo del resto in endgame Qua c'è una cazzo di ferona Mi piaccio i soldi raga che io ho bombato a menton Questa cazzo di protege ce l'abbiamo ora Dammi i soldi Non grappolo tenete, prendete altri grappoli se li avete Io ce li do Anch'io Staviamo qua suvra, occhio al camion ovviamente, se non ci schiacci Abbiamo un team davanti Ha finito la corrotta, attento, si è rotto un culo Gli arrivi a sacco di te 3 eh, si stanno buttando giù C'è il troppo qua, c'è il troppo qua Sì lo vedo Eh l'avevo consultato C'è un car Quanto com'è? A cazzo Com'è dietro In teoria non ci dovrebbe essere nessuno da quella da dietro Ha fatto un resto là dove avevamo scioccato prima noi Teniamo la posizione, teniamo la posizione, vediamo dove chiude Oh da dove? Da sinistra, sinistra, sinistra Funtiamo, funtiamo Eh ma ora erano venite a noi eh Cazzo Stai a loro Oh vabbè Oh cazzo No 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 Spettiamo Allora glielo butti quando si danno a uno spostare Quando si danno a uno spostare se vuoi glielo butti davanti a loro Capito? Capito Capito perché? Stai abilitato? Ah avete vado con la fila, vaffanculo Avevo la fila Ora lo tiro, ora lo tiro A terra uno in fondo Bombardamento ragazzi, bombardamento Anche a me, anche a me Sulla torre, sull'attore, sull'attore Occhio perché vi stanno flancando ragazzi, piastratevi bene, piastratevi bene, siete voi quattro, siete voi tre contro loro Occhio perché vi stanno flancando Usate i bombi, iniziate a tirare i bombi Bravo, 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 fondamentale quello, fondamentale Un po' se lo finisci con lo sull'attore C'è una cassa Io io Raga no, tornate a lui Tornate a lui Aspetta a tirare quel bomb, aspetta a tirare quel bomb Aspetta a uno Vai a tirare a bomba, tirare a bomba A terra un altro Resta giù lì, 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 resta giù lì Oh 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 Raga C'era uno che era sotto ai cassoni dove c'è lo shop di solito Quello l'ha mortato due volte ma l'ha smacciata Quello sulla torre rompeva il cazzo di brutto A me mi ha fatto morire Giulia mi ha tirato quella cassa di planta crea Io ti avrei messo